Coraggio! L'effetto Serra è una cosa che esiste da sempre. Noi abbiamo 19 gradi Celsius di media, grazie all'effetto Serra, quello buono, è così. Da sempre esiste l'effetto Serra, perché nell'aria ci sono questi gas, il vapore acque, l'ammonia, la nitride carbonica, che come tanti specchi riflettono, buttano giù una parte dei raggi infaossi e aumentano la temperatura del nostro tempo. E ma tu sappiamo, qual è il problema? Che in altri 200 anni a questa parte ci siamo messi con la rivoluzione industriale a buttare la nitride carbonica, che butta, che te butta, butta, che te butta e sei indiettita in Italia, che qua piove e sopra è caldo. Io sono stato preside l'anno scorso a Rovigo a fare una presentazione. a Rovigo a fare una presentazione. Grazie.